Con l'assessore Vito Villardello siamo qui nell'aula consigliare fuori in questo chiostro meraviglioso per parlare anche del problema che riguarda una malattia degenerativa e che crea tanti problemi a chi la vive e anche alle famiglie ma per parlare anche e soprattutto di questa bellissima manifestazione che vede completamente la città coinvolta in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi spazi e dà la possibilità di vivere le ricchezze del territorio dal punto di vista culturale e dal punto di vista di tesori anche del mare. Siamo stati poco fa infatti a vedere quell'importante ritrovamento, abbiamo parlato di questo. Allora, assessore, finalmente una cosa fantastica perché molte città in altri posti d'Italia fanno queste manifestazioni così ampie di tre giorni, a volte anche di più. Che cosa state raccogliendo? Intanto sono orgoglioso perché è la prima volta che nella nostra città si celebra la prima giornata nazionale delle persone con sindrome di Down e questo proprio perché c'è stata la sensibilizzazione da parte di diversi attori presenti nella città in particolare dell'associazione Vita e Salute che di concerto con l'amministrazione comunale hanno reso possibile questo importante evento. Un evento importante perché sicuramente porta alla sensibilizzazione e all'avvicinamento di questo problema e che praticamente dà la possibilità di discutere e soprattutto nell'affermare che comunque si tratta di un fenomeno che riguarda l'intera nostra esistenza e che comunque va affrontato con una certa sensibilità e che sicuramente attraverso la promozione di questi eventi e attraverso la promozione di importanti iniziative che vanno nel campo del sociale e anche nel campo dello sport può sicuramente migliorare. Allora Sergio Silvestre è il presidente nazionale di un'associazione che si occupa di garantire, riconoscere e sostenere i diritti di tutte le persone che sono affette da questa sindrome che è la sindrome di Down una sindrome che si conosce, che se ne parla, ma quanto si fa per questo? Ma evidentemente si fa sempre troppo poco dal nostro punto di vista se no non avrebbe senso che noi esistessimo diciamo che comunque le cose sono molto cambiate rispetto a 30-40 anni fa soprattutto all'indomani della modifica della legge sull'integrazione scolastica da dove poi è partita tutta una nuova visione e una nuova concezione della disabilità in generale e anche nella disabilità con problematiche intellettive. Perché prima la disabilità veniva vista come qualcosa di incurabile e quindi di tralasciarla invece si è capito che più si cura, più si sta vicino, più si dà la possibilità di vivere anche in mezzo a chi non ce l'ha la malattia più si può recuperare. Ecco qui dobbiamo sfatare un linguaggio prima di tutto Le persone con disabilità non sono persone malate che vanno curate purtroppo anche qua c'è molta disinformazione sono persone che hanno una condizione anche la disabilità della sindrome di Down non è una malattia per cui non sono affette dalla sindrome di Down ma è una condizione genetica che ovviamente comporta delle difficoltà prevalentemente intellettive ma si è messa nelle condizioni di poter avere un percorso scolastico adeguato con gli insegnanti di sostegno necessari è terminato il percorso scolastico per cui quando acquisiscono quelle capacità necessarie a vivere una vita quasi normale è giusto anche che trovino un posto di lavoro oggi la percentuale delle persone con sindrome di Down che ha fatto un percorso scolastico anche superiore anche professionale che potrebbe essere inserita al lavoro è del 12% su 100 persone con la sindrome di Down ed è veramente bassa si parla tanto di disoccupazione giovanile al 44% quando abbiamo una disoccupazione nel mondo della disabilità soprattutto intellettiva che arriva al 78% e questi numeri non li danno mai in televisione forse perché pensano che in qualche modo loro possono avere una pensione questa è una domanda che faccio riescono ad averla da adulti una pensione per questa disabilità oppure no perché se ce l'hanno magari considero che in qualche modo sono stati ripagati in una società imperfetta dove chiaramente il lavoro sta diventando sempre una mera pia illusione perché noi abbiamo una costituzione che dice che l'Italia è un paese democratico fondato sul lavoro però poi di fatto ma io le faccio una domanda se lei le dessero 250 euro al mese di pensione e un lavoro da 1.500 euro al mese cosa sceglierebbe? La pensione o il lavoro? Le chiedevo che pensione prendono ecco questa è la pensione che prendono le persone non solo le persone con sindrome di Dama ma tutte le persone con disabilità prendono una pensione di invalidità di 250 euro al mese poi evidentemente per i casi più gravi ci sono anche degli ulteriori incentivi ma che non sono legati alla pensione all'accompagnamento all'accompagnamento ma l'accompagnamento serve per essere acuditi per avere una persona a fianco che ti può aiutare che ti può quindi ha un costo che ha un costo per cui non è un intervento di sostegno al reddito ma è un intervento per il sostegno alla persona d'altronde ce lo hanno anche le persone soldo cieche le persone con disabilità motorie che lavorano che hanno una dignità anche loro Siccome questo è un problema politico perché chiaramente io l'ho capito tutto quanto il discorso e lo condivido ma noi ci troviamo di fronte a una politica che è incapace di affrontare queste tematiche troppo presa a litigare tra di loro e a mantenersi una poltrona che non è un qualunquismo è un dato oggettivo allora cosa si può fare? Ecco noi non chiediamo allo Stato alle regioni ai comuni di darci più soldi perché non chiediamo soldi chiediamo non chiedete assistenza no no assolutamente vogliamo andare oltre oltre all'assistenzialismo ormai non possiamo più pensare perché lo sappiamo da genitori che lo Stato non può più garantire i benefici economici che poteva garantire una volta ma noi invece chiediamo però i benefit loro sì vabbè voglio essere volentieri però noi chiediamo invece di fare un patto un patto con le istituzioni vogliamo fare le cose assieme lo Stato però deve garantire non può fare finta che un anno ti do qualcosa e l'anno dopo se ci sono le risorse te le continuiamo a dare dobbiamo fare un patto di corresponsabilità soprattutto per i progetti di vita indipendente di autonomia che sono progetti a lungo termine dove lo Stato deve garantire una minima parte non diciamo sicuramente il tutto le famiglie sanno fare la propria parte perché lo fanno da sempre e per cui la famiglia e le istituzioni e il tessuto sociale che deve anche qui fare un salto di qualità culturale e far sì che il problema non è solo della famiglia è della società una persona con disabilità inserita integrata nel contesto sociale ne guadagna tutta la comunità perché è una risorsa non è un peso allora per far capire che questa risorsa è una risorsa e non è un peso per far sì che la politica faccia qualcosa voi che chiedete qual è il vostro oggetto? ma i progetti ce ne sono tantissimi in giro per l'Italia buone pratiche basta guardarle per rendersi conto come in altri territori questi progetti stanno dando degli ottimi risultati facendo risparmiare montagne di soldi agli enti pubblici perché poi alla fine si ripercuote con questi risultati che lo Stato i comuni e le regioni risparmiano quando una persona con disabilità è messa nelle condizioni di poter autodeterminarsi trovare un lavoro e mantenersi perché prevenire è meglio che curare proprio così perché dopo da quello succede la depressione e tutta un'altra serie di per cui noi chiediamo all'istituzione di credere di investire di rischiare con noi perché è anche un rischio perché quando si investe su una persona i cui risultati non sono certi bisogna anche saper rischiare ma chiediamo all'istituzione di rischiare con noi con le famiglie con le associazioni di volontariato che ci aiutano in questo stanno nascendo tante fondazioni proprio per creare stabilità a questi progetti chiediamo all'istituzione che ci stiano a fianco senza assistenzialismo e